Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse alle folle A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto È venuto Giovanni che non mangia e non beve E dicono, è indemoniato È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve E dicono, ecco, è un mangione, è un beone Un amico di pubblicani e di peccatori Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta Per le opere che essa compie Sono padre Mario Toffari dell'Ufficio Migrantes della Diocese di Piacenza Bobbio Buongiorno a tutti A prima vista il brano del Vangelo di oggi pare quasi uno sfogo di Gesù Stanco Perché? Perché la buona notizia del Vangelo non è raccolta E questo ci sta, uno sfogo di Gesù ci sta Giovanni programmava la preparazione dell'avvento di Gesù in forma penitenziale Convertitevi, tuonava nel deserto Gesù voleva far accettare la sua venuta in altro modo Cercava di far gustare l'amore di Dio per tutti Anzi anche per gli ultimi e perfino per i peccatori Realizzando in questo quello che diceva il profeta Geremia Tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice il Signore Poiché io perdonerò le loro iniquità E non mi ricorderò più del loro peccato Ma è chiaro che il significato del brano evangelico Va oltre il legittimo sfogo dell'uomo Gesù È più profondo e a mio parere Ha una risonanza particolare nel mondo moderno Gesù le ha cercate proprio tutte per andare incontro all'uomo, ad ogni uomo Per offrirgli una vita che non finirà mai Per convincere l'uomo della bellezza, dell'amore Ma ha dovuto sperimentare anche la barriera Che l'uomo pone di fronte alle sue proposte E allora la soluzione, secondo me Sta nell'ultima frase del brano del Vangelo di oggi La sapienza, cioè Gesù È stata riconosciuta giusta per le opere che si accompie Quando Matteo ha scritto il suo Vangelo Gesù aveva già sperimentato la passione La morte in croce, la risurrezione E aveva dimostrato Fin dove si spinge l'amore di Dio per l'umanità Da quel momento I poveri, gli affamati di giustizia Gli operatori di pace, i puri di cuori Perseguitati a causa della giustizia Possano tranquillamente fidarsi di Dio Perché l'esito finale della loro vita È la risurrezione Partendo da questo Secondo me possiamo capire anche la modernità Del brano del Vangelo che abbiamo letto C'è però una condizione Che io spesso dimentico Ma credo che anche qualche altro cristiano La dimentichi con me È una condizione evangelica Un discepolo non è più del maestro Né un servo da più del suo padrone È sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro E per il servo come il suo padrone Dietro l'angolo c'è la tentazione Di risolvere la crisi chiesiale di oggi Con il cambio delle strutture Non hanno funzionato le lamentazioni Proviamoci con il ballo E così ci si logora in infinite ricerche Per salvare questa o quella struttura Questa o quella chiesa A prescindere dalla loro utilità Dei costi umani economici Si cercano infinite opere di svago Per attirare la gente Oggi la società Non ci perseguita Almeno nel nostro paese in Italia Ci lascia tranquilli nelle nostre strutture Anzi ci dice arrangiatevi Roba vostra Ci ringrazia Ci dà cenni di elogio Quando si evidenzia l'opera caritativa della chiesa L'importante è Che il Vangelo Non pretenda di illuminare La politica La vita civile E quella sociale Nessuno di noi Si è chiaro Almeno da parte mia Vuole imporre nulla A nessuno E lo Stato Deve essere laico Ma proprio perché laico Lo Stato deve saper valorizzare La sapienza di tutti Anche quella dei cristiani Il Natale Per noi cristiani È la ricerca di opere Che non costringano alcuni A nascere nelle grotte E ad altri A vivere nelle regge Il Natale È la gioia del perdono Che porta alla pace E non all'odio Che porta alla guerra Noi siamo chiamati oggi Ad andare verso l'umanità A rivelare la sapienza Con le opere Che salvano l'uomo A prescindere Dal nostro tornaconto Dal nostro successo Tenendo sempre presente Che l'opera di Gesù Era amore universale Particolarmente diretto A chi aveva colpe I pubblicani I peccatori Ma forse io E credo qualcun altro Cristiano con me Spesso non guardo Le mie colpe Tutto sommato Mi sento giusto Sento di godere Una vita sana Vita spirituale Ma è proprio In questi momenti Che percepisco Che il Signore Gesù Se ne va altrove Perché Lui Non è nato Non è venuto in questo mondo Per i sani Ma per i malati Non è nato E è venuto in questo mondo Per chiamare i giusti Ma per chiamare i peccatori E proprio in questi momenti Io mi sento chiamato per nome E allargo le braccia Per attendere il suo avvento Il suo ritorno La sua sapienza Buona giornata Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori